Le braccia aperte verso il cielo in un vortice continuo di pirouette su se stessi, sono i dervisci, sono danzatori, simbolo del misticismo orientale. La tunica bianca come un sudario, il copricapo che richiama di pietre tombali dei paesi musulmani, i dervisci rotanti, galati mevlevi ensemble del maestro Shaikh Nail Kezova, dichiaranti patrimonio dell'UNESCO, sono i protagonisti di uno spettacolo affascinante e suggestivo al Teatro Goldoni di Venezia, nell'ambito della rassegna Dal Vivo, organizzata da Veneto Jazz e dal Teatro Stabile del Veneto. Spirito, amore ed anima sono i tre elementi che da 700 anni caratterizzano questa danza spirituale e religiosa, religiosità nel senso di una ricerca di una profondità interiore, più che di un credo codificato. Nail Kezova, dal suo monastero, ha creato nuovi stili e nuove melodie di questa preghiera universale che si fonda sul movimento, uno spettacolo in sette parti che coinvolge in maniera quasi ipnotica.